Ricorre domenica la 26esima giornata mondiale del malato. In questa circostanza il Santuario della Madonna delle Lacrime ha organizzato due momenti importanti. Il primo si terrà domani mattina a partire dalle 11 all'ospedale Rizza di Viale Epipoli. Il rettore del Santuario Don Aurelio Russo porterà infatti il reliquiario contenente le lacrime della Madonnina in giro per i reparti in visita ai malati. Poi domenica pomeriggio a partire dalle 17.30 la Santa Messa presieduta dell'Arcivescovo di Siracusa Monsignor Salvatore Pappalardo ha la presenza dei malati assistiti dall'Unitalsi e delle altre associazioni di volontariato che operano in Santuario. Ascoltiamo adesso l'intervista realizzata con il rettore Don Aurelio Russo. E' tutta la Chiesa che si prepara ogni anno a celebrare questo momento. E' un momento celebrativo che vuole essere un ricordare alla Chiesa, la sua missione di stare accanto a chi soffre. Quest'anno il tema della giornata mondiale del malato è Mater e Ecclesie, ecco tuo figlio, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accorse con sé. Un tema molto caro a noi del Santuario della Madonna delle Lacrime perché ci ricordo un momento in cui la Madonna ai piedi della croce ha sicuramente pianto. E lì la Madonna ha ricevuto il mandato di essere madre di tutta l'umanità. Lei accoglie il figlio, accoglie Giovanni, accoglie la Chiesa, ma anche la Chiesa diventa partecipe della missione della Madonna, di stare accanto a ogni malato. Come ogni anno il Papa dà un messaggio per la giornata mondiale del malato, approfondisce questo tema. E nell'approfondire ricorda che l'immagine della Chiesa bella che ha dato anche lui di Chiesa come ospedale di campo, un ospedale continuo che accoglie, che dà sostegno, che dà speranza. E mette in guardia ospedali, strutture, affinché non siano governate dalle logiche del profitto dell'azienda, ma dalla cura alla persona. Quest'anno avremo due momenti. Il primo venerdì 9, quando il Requiato della Madonna delle Lacrime visiterà gli ammalati dell'ospedale Rizza, proprio per indicare questa vicinanza della Madonna accanto a chi soffre. E poi giorno 11, alle ore 17.30, con gli ammalati, con le associazioni di volontariato, l'Arcivesco presiderà una Santa Messa in santuario, un momento di preghiera, un momento in cui ci stringiamo ai piedi della Madonna per chiedere aiuto, conforto e sostegno.